Rientrati a Trento nella tardo pomeriggio di ieri, campioni d'Europa della Trentino, volley stanchi ma felici i gialloblu che hanno vinto la loro quarta Champions a 13 anni di distanza dalla precedente affermazione, stanno preparando la grande festa in programma quest'oggi alle 17 in Piazza Duomo. Ma sentiamo l'allenatore Fabio Soli. Era un sogno che avevamo all'inizio della stagione, quello di arrivare in finale, poterci giocare la finale. Abbiamo coronato sia quello che il poterla portare a casa, quindi credo che questa Coppa è una Coppa che non si vince tutti i giorni, quindi hanno fatto e abbiamo fatto insieme qualcosa di magico. Felice ma senza più energie il presidente Bruno Dare, che ha già deciso di lasciare la società. Dare è stanco, lo ha detto tante volte, sono quasi a 40 campionati, insomma un po' di stanchezza c'è ma non è argomento di oggi. La squadra sarà buona anche il prossimo anno, la voglia è di ripetersi tutti gli anni, di fare sempre meglio e di rimanere ai vertici, perché io dico sempre che l'obiettivo di società come la nostra è rimanere sempre in alto, poi vincere e perdere è nell'ordine delle cose, non ci sta una volta vinci e una volta perdi, però l'importante è rimanere sempre ai vertici, cosa che non è né facile né scontata. Vincere!